Anche in questa regione non c'è mai stata una conferma alla coalizione oscente, c'è sempre stata l'alternanza, quindi ci presentiamo a questa verifica con la volontà di essere la prima volta nella storia di Abruzzo in cui la coalizione che ha governato si riconferma. Noi siamo sereni di aver governato molto bene questa regione. Come ha governato Marsiglio? No comment. Molti dicono che da Roma è venuto a fare, che potevamo scegliere uno nostro presidente, uno dell'Abruzzo, ma lui dice che è vicino per scarca. Come ha governato Marsiglio in questi cinque anni? Ma secondo me bene. Finora di tutti quelli che ho conosciuto, finora è uno dei cinque miei migliori. No la politica non mi interessa proprio. Non andrà a votare? No assolutamente. Stiamo chiedendo come ha governato secondo lei Marsiglio in questi cinque anni? Mi piacerà. Non mi interessa più di politica, da un bel po'. No comment. No comment. Andate a votare. Certo che votiamo. Su Marsiglio non esprimete giudizi? No. Perché? Non sono molto favorevoli. Questo annuncio della settimana scorsa, adesso si fa a Roma Pescara. Sarà vero? Presidente del Consiglio dice di sì. I soldi sono stati trovati una settimana dal voto. Miracolo. Ci siamo dimenticati che comunque ne abbiamo persi. Una parte di quei soldi. Anche se il Citolest ha fatto una brutta figura in Sardegna, credo che l'Abruzzo sarà una banderina del Citolest. Come ha governato secondo voi Marsiglio in questi cinque anni? Benissimo. Per noi è eccezionale. Per noi è stato il top. In Abruzzo si vince? Ce la fate? Temete un effetto Sardegna? No, io temo l'effetto Abruzzo, che sarà l'effetto positivo. In Abruzzo si vince, quindi quando vince il clima è sempre positivo. Senza voto disgiunto non c'è il rischio dell'effetto Sardegna. Il risultato della Lega in Abruzzo lei è ottimista? Doppia cifra, sì assolutamente no. Stiamo chiedendo come secondo lei ha governato Marsiglio in questi cinque anni, bene o male? Non lo so, penso bene. Ci dice una cosa che secondo lei ha fatto bene Marsiglio in questi cinque anni? Oddio, questa è una bella domanda. A livello di regione, magari da un punto di vista del turismo, da un punto di vista dell'accoglienza, secondo me ci sono stati fatti passi da giganti. Ha provato a comprare un biglietto per il treno della tua? Dato che si inaugurano treni su treni. Adesso si fa anche la Roma Pescara. Sì, sì, non la trovo una cosa indispensabile sinceramente, c'è un autobus ogni mezz'ora la mattina e dopo un'ora, quindi non serve, magari abbiamo altre priorità. Ad esempio? Ad esempio, vabbè io lavoro su Pescara, quindi la città è diversa in condizioni abbastanza disastrose, il turista è molto spaesato, c'è la costa dei Trabocchi, che purtroppo l'hanno molto sponsorizzata, ma non è allineata con quello che dicono, perché poi non ci sono cartelli, non ci sono gli ascensori nelle stazioni per portare le bici e tanti altri servizi, quindi c'è un po' un discorso. Giudizio negativo il suo. Fate voi. Meloni a Pescara. Se lo sta facendo sotto. Sulle elezioni dice. Temono che non riescano a confermare Marsilio. Ma, voglio dire, aveva tolto tutti i soldi all'Abruzzo, ha distrutto la sanità, adesso a tre giorni sta facendo delle promesse che sa di non poter mantenere o che comunque sono tardive. Le promesse le doveva aver fatto Marsilio quando ha cominciato. Un presidente uscendo dovrebbe dire quello che ha fatto, non quello che promette di fare. Come ha governato in questi cinque anni Marsilio? Lo dicono i numeri, malissimo. Lo dicono i numeri, un dato di fatto. Se la farà, secondo lei, a rivincere? Se gli abruzzesi scelgono di votare una persona che dell'Abruzzo dice che è bagnato da tre mari, è una scelta loro, che gli devo fare. Ma, insomma, voglio dire, qua non si tratta, si tratta di un fatto, non è una scelta di tipo ideologico o politico. Queste sono elezioni amministrative, si tratta di scegliere chi ha governato bene o chi ha governato male per la miseria. Grazie.